Ma che piacere, ma da quanto tempo si aspettava una Cogitata con due grandi amici di Daily Cogito che però non erano mai stati qua insieme. Romina Falconi e Emanuele Casto, che bello! No, ho fatto la voce d'Uccia. Eccola qua! Qui abbiamo anche la voce d'Uccia, però non la faremo quest'oggi. Volevo semplicemente fare l'applauso. Benvenuti, benvenuti. Grazie mille. Che bello ritrovarci qui uniti e selezionati sulla base dei fenotipi, no? Ah, sulla base dei fenotipi? Non lo so, non lo so. No, sicuramente c'è. Sì, esatto, è vero questo effettivamente. È una cosa che io do tantissimo valore. Anche se è un parametro ritenuto un po' obsoleto. Sì, sì, sì. E direi che si sentiva dal tuo ultimo disco. Amore Ariano. Amore Ariano me l'ha effettivamente ricordata questa cosa. Benvenuti, come state? Romina, come stai? Partiamo da te. Io qua sto sempre bene, ormai sono a casa, purtroppo secondo me. E che senso purtroppo? Eh, mi lascia andare. L'altra volta t'hanno chiamato Pippo Duferre. Pippo Duferre? Pippo Duferre? E viva Pippo Duferre. L'altra volta sono venuto a fare delle cose incredibili. Peperonate, Pippo Duferre. Poi, per non parlare del tuo intervento al Cogito Festival. Cioè, che gioia, che gioia averti qua. È sempre bello. Grazie. Manuela, tu come stai? Bene, in questo periodo sono molto concentrato a livello creativo, pure troppo, perché non riesco a portare a termine proprio delle task pratiche che dovrei. Però la cosa buona è che poi sono cose produttive, quindi sopporterò. Vorrei iniziare, in realtà, prendendomi un impegno nei confronti di Romina, garantendole che oggi le cose non andranno come alla festa dell'Unità di Bologna. Oggi, su, meno male. Ma intanto perché non siamo alla festa dell'Unità di Bologna, per fortuna! Rick, io ho rischiato di farmi, cioè, ha rischiato di farmi arrestare. Non è vero, era tutto in prescrizione. Cosa? Quella cosa? Cosa diavolo è successo? Adesso spiegherà cosa è successa alla festa dell'Unità. Eravamo due versioni completamente diverse. No, no, quello combacciamo, devo dire. Non era un problema. No, semplicemente, avevo iniziato a snocciolare una serie di reati che lei nell'adolescenza aveva commesso. Ecco, questa è una cosa che effettivamente eviterei di fare. in capiazza, cioè, anche perché magari alcuni reati la gente non lo sapeva. Esattamente. Ah, parliamo di microcriminalità, eh, nulla di più serio. Ok, vorrei vedere. Forseggio. No! Vabbè, niente. Cipi. Quasi semplici. Questa cosa non scenderà perché ho imparato dai miei errori. Io dico sempre che non dobbiamo pretendere dei partner che non commettono errori, ma che se ne fanno carico. Romina, mi sono fatto carico di quell'errore, quindi non racconterò più i reati che hai commesso. Allora, però vorrei farti notare una cosa. Tu di fatto l'hai appena ripetuto. Eh, ma non ho citato quali? Ho capito io perché… Allora, intanto io adesso ti chiederò quali perché faccio lo sconso. No, no. Però in fin dei conti, cioè, nel senso, è un po' come… Cioè, adesso noi sappiamo che hai commesso della microcriminalità quando eri giovane. Allora, un pochino sì, però ecco, in mia difesa, vostri onori, dico a quelli da casa che ci sono… La vita è fatta di tanti ostacoli. Ok. Quando uno ha fame… Eh, ho capito, ragazzi. Ma la fama è brutta. Oh, ma guarda che quarti da male sta diretta. No, per esempio… È partita con una pubblica accusa, effettivamente. Ma quindi, allora, hai pestato vecchine. No, no, raga, no. Per piacere, per piacere, per piacere. Che potrebbe essere, cioè, ricostruzione d'adaista dei termini legalità, decostruzione d'adaista. Forse è un po' criminale dirlo in trasmissione, però forse questo lo lasceremo decidere al pubblico. Comunque, ma allora, è stato il mio percorso nel capire la proprietà di certe cose. Ora, ovviamente non dirò chi, però una volta un'amica mi ha confidato di aver provato dell'eroina. Dopodiché, una volta eravamo a cena con altri amici, si inizia a parlare di droghe, e si inizia appunto a parlare di eroina, e dico, beh, chiedete a lei, lei ne ha fatto uso. Aspetta. Ma è il peggio di Michael. Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Lei in privato poi mi fa, Manuel, puoi non dire che ho fatto uso di eroina? E l'ho risposto, ma tu eri presente? Cioè, non è mai una cosa che direi alle tue spalle? È vero, è vero, è verissima sta cosa. Le fa, no, no, ma su fronte dell'onestà irrepressibile. In dubbio, in dubbio, in dubbio, in dubbio, però ecco, sono cose che forse... Bene, insomma, avete questo bel rapporto. Beh, ma mo veramente voi avete fatto tutte cose legali, adesso tutti i professori qua abbiamo... No, no, aspetta un attimo. Qua adesso ho fatto le scuse pesate. Allora, intanto vorrei dire questo, Romina. Noi qui siamo in Veneto. La fattispecie di reati in Veneto è diversa rispetto alla borgata romana. Vedi, c'è un altro codice proprio. L'altro codice penale. No, cose illegali. Ma c'è nel senso, io, adesso visto che si parlava di droghe, io ho provato delle cose. Cioè, nel senso, ho provato delle cose, ma non è che io... Non ho mai commesso dei reati, effettivamente. Non che mi sovvenga così. Ho collaborato con Fede, quello è un reato molto pesante per tante... Però non mi è capitato di commettere dei reati se, appunto, a parte l'uso di sostanze particolari, su cui posso anche tanto, l'ho già detto pubblicamente, ho usato gli psichedelici, che effettivamente è una cosa che dovrebbe essere sanzionata in qualche modo. Però reati, reati no. Tu, reati, tu, tu, Immanuel Casto. Sì, però si entra nei dettagli, però è stato parte del mio percorso di crescita. Ok. Beh, alla fine... Tutto insegna nella vita, no? Tutto insegna. Anche ascoltare un video di Mauro Biglino ti insegna qualcosa nella vita. Cioè, persino votare PD ti insegna qualcosa nella vita. E quindi andare alla festa dell'unità ti insegna qualcosa nella vita. No, ma è stato bellissimo, perché eravamo a questa festa dell'unità, a me già mi avevano dato tre drink così. Perché quello che mi aveva invitato mi conosce bene, eccetera. Lui se era fatto un drink già stava fuori di testa, perché lui non regge l'alcol, purtroppo. E quindi noi altri che lo reggiamo un po' di più, agli occhi suoi, siamo tutti alcolisti. Alcolizzati, sì, sì. Hai dei criteri di interpretazione un po' alti, insomma, quindi da questo punto di vista. Sì, sì, sì. Ci sta, ci sta. E quindi attacca a parlare di tutte le magagne della mia vita. Ma in una maniera, sembrava San Pietro, sai quando mori? Quando ti dico no, vai. Cioè, io mi sono rivista l'RVM della mia vita. Romina, anzi, scusatemi. Romina Falconi, abbiamo qui l'elenco delle sue malefatte. Decideremo se combinarle o meno la pena infernale. E Romina risponde. La vita è dura. Già un giorno diceva, nessun cazzo è duro come la vita. È vero. Aveva ragione. Quella è poeta della mia vita. Farei da tua. No, volevo dire. E lui attacca a dire queste cose. E a un certo punto, io vedo proprio davanti a me, io cominciavo a diventare di tutti i colori. E passano dei poliziotti, di che calimo, e vengono a prendere. Perché, non lo so, sai quando ti senti proprio goda di baglia, eccetera? Poi abbiamo riso molto durante la serata. No, ma è giusto, è giusto così. E adesso, peraltro, fra poco voi cominciate un percorso nuovo. Che mi fa molto felice, peraltro, perché è percorso a teatro. Quando delle persone cominciano un percorso a teatro, io penso che il mondo abbia qualcosa in più. Volete raccontarci un po', cioè raccontarmi in realtà qualcosa? Anch'io non vedo l'ora. Io in realtà, come te, credo, nasco dal teatro. Anche se poi ho abbandonato, iniziando diciamo per gioco, il percorso musicale. Quindi sarà un bellissimo, bellissimo ritorno. Allora, andiamo a teatro con questo tour, con un'orchestra da camera. Cioè, già mi piace tantissimo questa idea, il fatto di sentire i nostri brani riarrangiati per un settimio, è il termine tecnico? Settimino, orchestrale. L'effetto è straordinario, perché i brani, diciamo, più emotivi vengono elevati. Ma quelli comici, l'effetto è straordinario. Fra l'altro ci sono dei passaggi che, sentiti con questo adattamento, diventano terribilmente offensivi. È stranissima questa cosa. Allora, vi dico, la canzone Tropicana, a un certo punto, nello special, che è molto ritmato, ci sono delle voci che faccio io, che fa... Hola, 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 Emanue Lido, Tropicana. Mentre qua, si sente un violino che fa... Tun, 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 e io faccio... Drobiganal. Era assolutamente irracce. È un effetto dirompente. Capisci? E in mezzo abbiamo anche deciso poi di portare anche dei contenuti, insomma, testuali diversi. Questa è una sfida anche per me, perché io mi affido molto alla comicità, quando intrattengo dal vivo. Ma ho visto che funziona moltissimo, soprattutto nell'ambiente da club. È difficile impostare altri tipi di discorsi. Il teatro probabilmente invece ce lo concede. Sì, siccome è una veste nuova quella che abbiamo, perché, insomma, il quartetto d'archi più... C'è il pianoforte, c'è la percussione, quindi ti mette per forza di fronte ad una realtà diversa, molto più intima. E lì, in automatico, diviene spontaneo essere più intimo anche nei dialoghi, se vogliamo, no? Certo, certo. Quindi c'è anche una parte di interazione con il pubblico, poi c'è com'è che volete impostare? Sarà stile concerto e quindi, diciamo così... Oppure c'è anche un momento di interazione con il pubblico? Ma per amor di Dio, cosa sono sporcato? Ma ci mancherebbe! Ma quei plebei stiano zitti! Ma quei plebei stiano zitti con il megafone! Non so, Romina, se tu vuoi ovviamente sei libera. No, io volevo usarli a un certo punto da coristi, tutti quanti. E lo si può fare con una cosa, perché ci stanno delle canzoni nostre che io vorrei fare a un certo punto improvvisando. E lì ti serve proprio il tappeto di voci davanti a te, voglio un muro di voci. E ho immaginato tutte cose che sono fattibili, anche se uno non si è provato nulla prima. In quel senso l'interazione è bene. Però già il fatto che ci mettiamo un po' a nudo noi, nel senso che nel club non è che siamo più buffoncelli, però intendo, no? Cerchiamo di essere brillanti, di cavalcare la comicità. Qui tra una cosa e un'altra, proprio perché è un evento più unico che è raro, è difficilmente potremo replicare, no? O meglio, io me lo auguro. Però, ecco, trovare il settimino, fare questi arrangiamenti, non è una cosa che poi fai tutti i giorni, perché organizzare con un teatro ci vuole del tempo, eccetera. Secondo me è bello anche far vedere una veste nuova. A parte che è una cosa che vi fa onore artisticamente, perché comunque riuscire a prendere qualcosa che voi conoscete molto, molto a fondo, che avete già fatto molte volte, e traslarlo in un ambito in cui siete sicuramente al di fuori della zona di comfort, e comunque in un ambito in cui magari non vi siete mai cimentati finora, anche se tu, teatro, ci sei nato, però magari questo tipo di vesta è diversa, ti permette anche di conoscere un po' meglio il tuo lavoro, la tua professionalità. Questa è una cosa molto bella, secondo me. Sì, sì, ho veramente tanta voglia. Tu, Romina, sei preoccupata, eccitata, non abbiamo neanche parlato, perché non è che dia molta importanza alle sue emozioni. Come? Non scherzare. Dai, non è vero. No, ma sai, noi siamo Sandra e Raimondo, è proprio la parte, però mi diverte molto. Io sono agitata riguardo la questione dialoghi. Sono agitata perché le canzoni che, per esempio, per quanto mi riguarda ho scelto di mettere in scena, includono una certa teatralità, le volte sono un po' estreme e fanno uscire fuori la rabbia, ecco, però vorrei, in un paio di capitoli devo essere seria e lì ho paura di essere un po' troppo messa a nudo, ti dico la verità. Quella è una cosa che mi fa molto paura. Certo, certo. Sono però veramente fiducioso. Ora, non ha senso che ci chiamo le pudenne in pubblico perché non credo sia un'attività di intrattenimento, però è comprensibile la sicurezza che hai sul lato performativo, perché Romina ha uno dei più grandi talenti musicali che abbiamo mai visto. Grazie. Poi, collaborate da un bel po' di tempo, cosa sai? È dal 2011. Porca miseria. Quindi veramente tanto. Per quanto riguarda l'aspetto proprio della narrazione, dell'intrattenimento, ti ho proprio visto crescere tantissimo. Grazie. Sono genuinamente impressionato, non dalla trasformazione che presuppone che venissi da un punto blando, proprio dall'efficacia. Quindi capisco la sfida, ma non avrei questa preoccupazione. Ma sai che insicura come sono? Hai visto lui quando mi provoca così? In realtà mi fa una terapia incredibile, senza rendersene conto. Io almeno mi permetto di dare questo consiglio, non sono in grado di consigliare niente a nessuno, nel senso che mi sento proprio una che deve fare l'eterna studentessa, no? Che deve imparare sempre. Però per quanto mi riguarda, ci sono delle volte in cui veramente mi sento di contare meno di zero. E forse quella è la mia benzina per alcune cose. Avvalersi della presenza di qualcuno che tiene a te, però nello stesso tempo che non ti fa mancare una dose di cinismo. Guarda che alle volte quella cattivaria lì per me salvifica da morire, anche se poi insomma non si regolamo. Perché sul palco, per esempio... Sono molto d'accordo. Credo che avere comunque la punzecchiata, che non è sempre accondiscendente, ma che ti fa capire, anche con una risata, quanto sia importante guardare quello che stai facendo sotto un'ottica diversa. Almeno è una cosa che io ho sempre cercato di fare anche con gli altri. Beh, qui ai Cogito Studios la punzecchiata è il metodo esistenziale per eccellenza. Voglio dire, adesso Valerio, che collabora con noi da un mese e mezzo, è lì. Non gli abbiamo ancora dato un microfono perché non ha diritto di parola. Ovviamente non ha diritto di parola perché è qui da troppo poco tempo e già parla troppo fede, che però non ha il microfono neanche oggi. Quindi in realtà sono oggi festa, cioè sono l'unico dei Cogito Studios che può parlare. Finalmente, cazzo! Però riuscire a punzecchiarsi, a prendersi in giro, sapendo e presupponendo la stima reciproca, è fondamentale per riuscire a crescere in un ambito professionale, artistico ancora di più. Quindi io condivido molto quello che dici. Però non è un'epoca in cui questa cosa è facile. Gesù mio, non ce la faccio più. No, questa è la mia area. Poi lui sarà sicuramente più diplomatico nel reagire a questa... Non si può dire... A parte il gioco suo, non si può più dire niente. È vero, cioè non è normale. Adesso vanno di moda tantissimi stati emotivi e certi sono fuori moda, invece che a me attraggono molto tipo la rabbia. Mostrare rabbia rende... Come se poi da postumo, no? Sta roba ti rende ridicolo. E ora va tantissimo l'indignazione. Poi che altro, Manu? Cos'è che come stati emotivi affascinano tipo incidenti stradali, no? Che tu non vuoi vedere... Ma il tema dell'indignazione ci rifletteva l'altro giorno. Sicuramente è una cosa che Ricca ha già elaborato. È molto curioso perché ci sono una serie di emozioni negative che nella giusta quantità diventano interessanti. Pensiamo alla paura, ad esempio, sulle montagne russe. Quella è paura, però è usata in un modo in cui diventa interessante. Pensiamo al dolore. Vi faccio un esempio. Il piccante. Il piccante tecnicamente ha dolore in bocca. Sono come degli impulsi elettrici. Ma è usato in modo che diventa interessante. La tristezza. Ascolto una canzone, guardo un film. È una tristezza che mi piace provare. L'indignazione è una forma di rabbia che è piacevole. Non so bene come sia possibile, ma io stesso la trovo piacevole. Io stesso vado a cercare contenuti che so che mi procureranno indignazione. Non è una rabbia che mi fa stare male. È curiosissima sta roba. È una sorta di morbosità. C'è un bel libro. Lì alle mie spalle c'è un bel libro. Adesso non so dove l'ho messo. Però è un libro di Bradbury che si intitola Lo zen e l'arte della scrittura. Che è il libro in cui Bradbury parla della sua relazione con la scrittura. Non parla mai di zen. Lui all'inizio dice che ho messo zen soltanto perché così il libro vende di più. Lui a un certo punto dice io scrivo perché ho bisogno della dose di veleno quotidiana. Come se io mi preparassi poi al veleno della vita. Io sono d'accordo con quello che dice. Credo che sia una delle funzioni dell'arte. L'arte ti fa provare una rabbia controllata. L'intrattenimento ti fa provare un odio controllato. Perché poi a un certo punto la vita ti presenterà il motivo per provare rabbia, il motivo per odiare, il motivo per provare dolore, paura, angoscia. Se tu sei riuscito a fornirti di quella piccola dose di veleno, lui lo fa da scrittore, ma possiamo farla anche vedendo film, leggendo libri. Allora, quando poi la vita ti presenterà quella cosa, è un po' come se ti fossi preparato. E quindi come se fossi un po' più, uso una parola che detesto, ma qui ci sta troppo bene, resiliente. Riesci ad adattarti di più a quello che ti capita. E dall'altra parte, però, ovviamente se io aumento un po' troppo quella dose, mi avvelena. E a me sembra, io sono d'accordo con quello, cioè io credo, non so, l'esempio che, non so se l'avete visto, The Whale, il film. No, non ancora, ma mi hanno detto, guarda, fate prima una boccia di vodka. Non so che vola di... Io ho seguito tutto il dibattito attorno. Il dibattito è molto, molto, molto avvelenato, è molto velenoso e è quell'indignazione che rischia di bloccarci, ok? Cioè rischia di impedirti di avere un dialogo serio. E lì io vedo che questo atteggiamento c'è in tante cose, quindi... Ma su questa cosa dell'arte, sai che veramente dico la stessa cosa, ma in altri termini. Lo dico in riferimento al gioco, ma in realtà si può strarare alla finzione. Io dico che la finzione ludica è la palestra delle emozioni. Ed è la stessa cosa, anche in palestra ti puoi far male, ovviamente, se esageri. È una delle tante funzioni dell'arte. A me proprio da artista uccide il fatto che ora si pensi che invece l'arte debba unicamente avere funzione didattica o di promozione politica. Che ovviamente ha questa funzione. Ci sono delle opere altamente morali, opere che fanno politica, opere che danno messaggi, tutto quello che vogliamo. Ma non ha quell'unica funzione. Però va detto che questo rientra proprio, non è una cosa che affligge solo l'arte, in una richiesta di politicizzazione, in realtà a 360 gradi, proprio da qualsiasi scelta nella vita, quindi ricada anche nell'arte, che quindi noi valutiamo la bontà di un'operazione artistica sotto gli stessi parametri con cui valuteremmo un comizio politico. Quanto è stato efficace nel portare avanti quell'istanza? È un possibile parametro, però è uno. E non è neanche quello direttamente, cioè nel senso è totalmente scollegato poi da quello che è l'intenzione dell'artista. Cioè nel senso, se prendi un film The Whale, il film palesemente non ha un intento politico. Quello non l'ho visto, quindi non l'hai visto, non l'hai visto, ok ok. Però ecco, questo aspetto qua della politicizzazione è abbastanza importante, perché credo che alla fine, anche alla fine battaglie che diventano politicamente rilevanti, se tu vai ad applicarle dappertutto, è un po' come diceva Hegel, è una notte in cui tutte le vacche sono nere. Se tu quella battaglia non le dai il giusto contesto, ma la vedi ovunque, allora quella battaglia perde un po' di valore, cioè nel senso diventa una cosa onnipresente che alla fine rischi di perdere i confini di quella battaglia. Ed è un problema grosso. L'arte dovrebbe un po' sottrarsi da questo. No, ma soprattutto il senso critico che tutti noi abbiamo e dobbiamo avere per qualsiasi cosa, dal film bello eccetera, non puoi metterlo sullo stesso piano di altre cose. Noi crediamo di essere innovatori, di essere diversi dai nostri genitori. Però io per esempio vi faccio questo esempio qua. Negli anni settanta i cantautori italiani parlavano molto di politica nelle loro canzoni, al punto che se c'era qualche cantautore che decideva di non parlarne di pobaglioni rispetto agli altri, era molto criticato, era considerata una... poi lascia perdere poi la carriera che hanno fatto questo, ma mi permetto di parlare proprio... Quindi adesso è politicizzato tutto, però bisogna sempre seguire una moda, ma è possibile? Quando l'arte è quella che l'hai detta, alle volte siamo dei pecoroni e andiamo dietro... E quindi a volte rifletto molto e dico, ma no, uno vuole sublimare un momento orrendo, uno magari sta facendo, scusa, del termine del surf sulla merda, scusa... Cioè... Ma io ho delle immagini meravigliose in mente io adesso... Io sai che... Sì, tu devi essere ospite fissa qua per le immagini che fa... Sì, ma soprattutto poi elegantissime, credibile... E... no, volevo dire... No, aspetta, aspetta che mozzo a pensare alla merda... Ah no, aspetta, no, scusate... No, ho capito, mi dispiace da... Vabbè, è una cosa... Fiamo tutti, eh... Anche Gesù faceva la cacca, ricordiamocelo... In casa mia, su quella cosa, sono sempre stati piuttosto restrittivi, però vabbè, va avanti... Poi su questo ci torniamo... Ma restrittivi che te... Eh, magari un po' stitici... Certo... No, rovinare... Vabbè, però prima o poi, se no, mori... Eh? No! Io sono arrivato quattro settimane senza farla... Ma dobbiamo davvero parlare di queste cose... Quattro settimane senza cagare, Immanuel? Non credo vogliate sapere... Ma sembravi dall'ottavo mese... No... No, all'apoca ero fanciullo ed ero anche istituto... E' estremamente inappetente, quindi in realtà non è che avessi mangiato molto... Ah... Però sì, sì, sì... Non avevi nulla a buttare fuori, quindi... Perfetto, perfetto... Però è completamente che scorsiamo... Posso riprendere il discorso che stavi facendo al di là delle applicazioni scatologiche? Sì, bravo, beh, fallo, fallo a parole fighe... Però è bravo che lui è bravo... Quella è un'altra funzione, per me è importantissima, lo dico proprio esponendomi, dell'arte... Quella proprio di catalizzare e esorcizzare i nostri lati bui... Allora, io da bambino avevo delle inclinazioni sadiche... È una cosa che dico... Ad esempio, ero molto, molto attento da... Ma quella serve a masochista, semmai... Però sai che... Cioè, è l'altra faccia del sadismo, il masochismo, no? Vedi che... Guarda che... Comunque... Ora, sono cose che non menziono, altre su cui mi è più facile scherzare... Ad esempio, la mia passione nel vedere le cose trasformate dal fuoco... No, veramente, questa roba qua c'è da... Ragazzi, ragazzi... Ragazzi... Mi è pausato... Mi sa che qui abbiamo appena avuto uno sguardo molto... Cioè, c'è stato... Fede ci ha messo incinti con un secondo... Sì, sì... No, Fede ci ha guardato... No, come a dire... È vero? Sì, sì... Ci ha guardato con l'occhio spermatico... Ci ha messo incinta... Adesso... Basta... No, vabbè... Lui voleva di che... E da ragazzina era attratto dal fuoco... Ma oddio... Ma io non ho capito cosa è successo... Io tendo a perdermi queste cose un po' non verbali... La parola trasformata dal fuoco... Troppe cose contemporanze... Cioè, possiamo toccare... Si vede delle sensibilità... Sto andando a fuoco... Sto ovulando... Ditemi quando è finito questo momento... Così riprendo il discorso... No, esatto... No, no... Ok... Gli piaceva il fuoco... No, no... Perfetto... Prego... Riprendi... Vai, vai, vai... Come se non fosse successo nulla... Ok, ok... Che... Fra l'altro io... Allora, tu... Apro una parentesi... Ad esempio a me il termine piromene non piace... Perché si parla tanto di lessico... E comunque giudicante... Cioè, c'è comunque mania... Che ha a che fare con la follia... Cioè, ci dovrebbe essere proprio pirofilo... Cioè, pirofilo è... Cioè, la pirofila è quella che metti in forno... Cioè, se non fai danni... Perché non c'è un nome per identificare la passione per il fuoco... Esercitata nell'ambito della legalità e del rispetto reciproco... Poi, fra l'altro... Sono anche pieno di ostioni sul corpo... Ma questo perché il fuoco dà tanto... Ma chiede anche... Allora, è stato bellissimo... Arrivederci... Io direi che è ora di andare... Ma proprio mi stanno aspettando... Il fuoco dà tanto... E chiede anche tanto... E mia nonna ne sa qualcosa... NONNA! No, vai su... Comunque, tornando alla considerazione seria che devo fare... Io ringrazio che esistesse... Ma Romina sta concentrata... Che ringrazio... Che ringresse veramente... Esistesse la finzione ludica... Che esistesse Mortal Kombat con la gente che si squartava... Ma sarebbe pericolosissimo togliere alla gente questo tipo di sfogo... Invece no, c'è chi proprio sostiene che ci sia un rapporto inverso... Cioè, che la gente così sviluppa sadismo o impulsi oscuri... Così, perché le mutua dall'arte... Quando ha proprio funzione di esorcizzare... Serve proprio criminale togliere... Questo spazio sano... Che è la finzione che ci consente proprio di buttare fuori queste cose... Che è inutile giudicarle perché sono parte della natura umana... Però tantissime persone non piace questo discorso... E però dall'altra parte, se ci pensi... Ti faccio un esempio... Quando è successa la strage a Columbine... Ti ricordi? La sparatoria nella scuola... La prima che ha fatto grande scalpore negli Stati Uniti... Era tipo il 2000-2001... Lì si è dato via... A un discorso politico e sociale... Molto molto particolare... Che prima non c'era in quella forma... Cioè... A questi ragazzi... Quando abbiamo guardato le loro camere... Le loro bedrooms... Abbiamo visto che... Avevano i dischi di Marilyn Manson... Cioè... Ascoltare le Marilyn Manson... O Eminem... O Immanuel Castro... O Mina Falconi... O vedere i video di Rick Duferro... O giocare ai videogiochi... Diventa... Ciò che ti spinge a fare... Questo è un cambiamento... Non soltanto nella visione dell'arte... Ma anche nel ruolo dell'arte... Ma anche in una visione antropologica... Cioè noi siamo il risultato di quello che vediamo... Che è una... Scusatemi... Cagata pazzesca... Grazie... Perché in realtà noi siamo il risultato di una serie di concause estremamente complicate... E una buona parte delle nostre esperienze... E noi le facciamo per esclusione... La catarsi... Di cui parlavi tu... Sì... Io ascolto... Vedo un film... Il film mi sfoga una valvola... Che poi io non vado... Anche perché il film mi mostra anche la parte deteriore di quel comportamento... Noi questa roba qua l'abbiamo completamente rovesciata... Assolutamente... C'è un'altra cosa che fa l'arte... Prima non ho menzionato... Di un'importanza estrema... Che viene fraintesa invece con questo... L'arte ci consente di conoscerci... In che modo? Io sento quella storia... Sento quella canzone... E capisco qualcosa di me... Cazzo non ero in grado di dargli un nome... Eccola lì rappresentata... Ma non è che mi mette dentro quella parte... Cioè non è che un film violento mi trasforma in un serial killer... Al massimo se sono già un serial killer mi renderà più creativo... Esatto... Poi uno ascolta magari muori... Ed era Kobe Bryant... No scusatemi scusatemi... Non volevo no... Giuro 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 giuro... Cosa vuoi fare lo sguardo spermatico anche a lui per favore... Quello che ci hai fatto a noi... Dammi lo sguardo spermatico Fede... È la magnum spermatica... La magnum del fetto... No quindi sono d'accordo... Romina tu cosa ne pensi? No sono d'accordissimo... Non avrei potuto dirlo meglio... È vero non avresti potuto... Non avrei potuto... È tutto così... Dai... No! 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 Cioè Romina io mi scuso per l'altro ospite... No ma no... Lo amo già... No ma noi... È il nostro ruolo... Non è... Poi... Ed è vero... Non mi aspettavo nulla di diverso... È vero che ha una dialettica ragazzi... Che si stende tu... Cioè lo amo per questo... Che stai parlando vabbè... No no però intendo no quando... Sono dell'idea che secondo me ecco c'è troppa intellettualizzazione... Stiamo cercando di intellettualizzare anche delle cose che non possono... Cioè che passano sotto corde emotive per cui non so come dire... E è una difesa... Una difesa secondaria proprio psicologica... Questa tipo... L'intellettualizzazione non è molto famosa come la moralizzazione, il diniego... Però è una difesa secondaria... Secondaria nel senso che subentra da... In età infantile ma non primordiale... Non da quando sei neonato... Possiamo dire che comunque è sempre il tentativo di sentirsi superiore a qualcun altro... Esatto... Non c'è niente da fare... Cioè no ma è anche straniarsi e dare un giudizio a tutti i costi... Io adesso mi permetto di dire questa cosa e apro questa parentesi... Io sto facendo un album che parla tutte di ombre no? E voglio dare ragione in un certo... No voglio far brillare l'ombra e il difetto e il disturbo e chiamalo come vuoi... Come se fosse il protagonista e in sostanza dire... Il sottotesto è sempre silente è... Ma se quell'ombra viene fuori in quel momento un motivo ci sarà... E invece noi siamo sempre qui a cercare di mostrarci sempre al meglio delle nostre possibilità... O a guardare gli errori degli altri come se noi non avessimo sommersi dei punti d'ombra... Poi io mi sono accorto di questa cosa... Perché noi siamo nell'epoca della visibilità quindi siamo sempre... È come se tutti ci guardassero sempre... Però poi io a un certo punto nella mia vita... Visto che ero molto molto... Ero molto attento al giudizio degli altri per un periodo della mia vita... Fino al liceo anche superiori... Ero molto attento a come gli altri pensavo mi vedessero... Poi a un certo punto mi sono detto... Ma aspetta un attimo... Io sono... Sto sempre guardando me stesso... Cioè io sono sempre attento a guardare e a pensare come gli altri mi vedono... E quindi non guardo gli altri... Cioè nel senso... Io sono d'accordo... Io non ho il tempo di guardare gli altri... E questo ha avuto due effetti nella mia vita... Il primo è quello di dire... Secondo me devo prendere una piola leggera... Tanto gli altri sono occupati a guardare se stessi quanto me... E in secondo luogo ho cominciato ad accorgermi un po' più degli altri... Non per giudicarli... E questo è stato molto positivo per la mia vita... Perché ho cominciato a dire... Se io quando ho cominciato a guardare gli altri... E ho smesso di autogiudicarmi così tanto... Mi sono accorto di quello che sono... E non è che li ho giudicati... Non è che ho cominciato a guardare... Guarda quello come cazzo... Guarda quello come parla... Guarda quello che stronzo... Magari anche gli altri fanno così come sto facendo io... E questo ha disteso enormemente la mia vita... E invece siamo sempre presi... E i social network in questo non hanno aiutato minimamente... Madonna tremendo... Sì sì... Voi come la vivete l'esposizione sui social network? Perché questo è un tema che su Daily Cogito negli ultimi tempi... Trattiamo tantissimo... Esposizione su che piano? Sul piano dell'effetto... Che la vera e tante persone che ti guardano... Ha sulla tua persona... Sulla stima che hai di te... Sul modo in cui... Produce anche la tua immagine pubblica... Cioè ha un effetto positivo o negativo... Come ti relazioni? Positivo... E penso di avere un approccio... Non so... Per quanto valga la mia autovalutazione... Sano... In che senso? Io sostanzialmente propongo un prodotto... A livello artistico... E quando salgo sul palco... Propongo un personaggio... Quando ricevo dei feedback molto positivi... Non penso a... Sono Dio... Penso ho fatto un buon lavoro... Tendo a pensare alla stessa cosa... Non prendo troppo sul personale... Né i riscontri negativi... Né quelli positivi... Loro stanno sempre giudicando una performance... Perché sui social... Il più delle volte la mia è una performance... Ma non nel senso di artefatta... Nel senso di fatta... Con consapevolezza... Non sono naturale... Ma per me sarebbe proprio inconcepibile... Esserlo al di fuori dal privato... Questa consapevolezza... In realtà mi dà un minimo di distacco... Non so se questo risponde... Tu Romina... Romina... Eh anch'io sono super distaccata... Anche perché io ho passato tantissimo tempo in vita mia a mettere maschere... Per mia natura proprio psicologica... Perché certe cose per me erano orribili da mostrare... Quali è la tristezza... Ho sempre fatto più la boffoncella... No? E ho dovuto lavorare molto per cercare di toglierle... E adesso che sto imparando a toglierle... Vedo la gente metterle... Perché sui social tutti cercano di toglierle... Dico ma cazzo è possibile... Io c'ho sempre il tempismo di Giorgia Palmas... Cioè... Che ha vinto... Che ne so... Giorgia Palmas ha vinto l'Isola dei Famosi... Dopo che... Insomma finalmente... L'Isola dei Famosi in quel periodo lì... No ma io lo so da un mio amico giornalista... Ok... E il giorno che ha vinto... Il giorno dopo che si aspettava magari te... Hanno preso Bill Laden... No nel senso... All'Isola dei Famosi... No all'Isola... Però intendo... La caverna in realtà era il set dell'Isola dei Famosi... No ma voglio dire... Quando sei quando ti aspetti magari più articoli possibile... Chiaramente dell'intrattenimento... Certo... Sbattono tutti perché c'è sempre qualcosa... Certo... Quel tempismo lì... E quindi l'idea di vedere gli altri... Mettere delle macce... Cioè li sgamo... Io sto super... Riesco a sgamare adesso le maschere altrui... Certo... Certo... E ce n'è a pacchina... Giorgia Palmas... Mio primo calendario con tette fuori della mia vita... Era un adolescente felicissimo di avere il calendario di Giorgia Palmas... Il mio primo è stato invece quello di Valeria Marini... Davvero? Sì... Non so cosa mi piacesse... Credo la rotondità dei volumi... Però... Però... Però mi piaceva effettivamente... Ma i volumi dei gomme... Perché era tipo... Era quello delle ruote... Interpretava i segni zodiacali, ricordo... E c'era questa ricerca estetica della forma sferica... Che veniva riproposta... E mi ricordo che mi piaceva... Mi piaceva la forma sferica... Vabbè... Io non avrei mai detto che il casto comprasse... Non credo l'avessi comprato... Però mi piaceva... Ma che età? Che età? Boh... Undici anni? Avevi già scoperto la tua... No... Beh no... Ok... Quindi era... L'ho scoperto appena si è manifestata la mia libido... Sì... Pocco dopo... Quindi sia comunque a quel periodo... Sì... Magari... Hai mai pensato che magari Valeria Marini... Tu ricordi che ti sia piaciuta... Ma invece è proprio ciò che ti ha fatto dire... No... 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 Ma mi piaceva... Non mi eccitava... È una cosa diversa... Ok... Però mi piaceva esteticamente... Ok... Ma quel tipo di estetica femminile... A me piaceva tantissimo... Poi adesso mi trovo più interessanti... E altri tipi di narrazioni più maschili... Ma forse perché nell'adolescenza... Ho seguito più narrazioni femminili... Ma all'epoca proprio... Mi piaceva proprio l'estetica... Ok... Anche nei videogiochi... Ora c'è il problema della rappresentazione... Di cui giustamente si parla... Del fatto che i personaggi femminili nei videogiochi... Siano storicamente molto sessualizzati... E per me è il solito problema... Che non è quasi mai l'anche... Ma è il solo... Cioè benvenga ci sia un tipo di rappresentazione... Non è un problema se è solo quella... Certo... Questa cosa l'abbiamo appurata... Detto questo... Se in un videogioco c'era un mignotone... Io volevo usarla... Cioè io la volevo proprio... Proprio zoccolona... E mi piaceva tanto... 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 Non so perché... Che fra l'altro nei videogiochi... Di solito... Dato che c'era un solo personaggio femminile... Bastava che io dicessi... Io prendo la donna... Non c'è bisogno di dare un nome... Perché c'era una... Era lei... E c'era sempre quelle tette di fuori... Ero contentissimo... Molto... Molto bene... Adesso io faccio una domanda scomodissima... Vi lascio la domanda scomoda... Legata al fatto di social network... E poi... Saluteremo lo sponsor... Ma prima vi faccio la domanda... Così durante lo sponsor potete pensarci... Perché la domanda è scomoda scomoda... Vai vai vai... Voi... Allora io vi ho conosciuti di persona... Abbiamo passato dei momenti... Chiacchierate... Cene... Via dicendo... Io so che voi siete... Delle persone... Diverse... Rispetto a quello che poi... Viene mostrato... Tu perché... Hai proprio un personaggio... In manu e il casto... Tu Romina... Sei molto meno... Sei molto più in linea... Con quello che sei nella vita... Però comunque anche tu hai una facciata... Ok? E allora vi domando... Come vi relazionate... Al fatto che lì fuori... È pieno di adolescenti... Che ovviamente vedono soltanto questo aspetto... E si convincono... Che la vita di Manuel Casto... E la vita di Romina Falconi... È una vita perfetta... Questa cosa... Vi passa per la testa... Vi disturba... Fate qualcosa per evitarlo... Prima di rispondere... Grazie... Allo sponsor di quest'oggi... NordVPN... Cosa? Cosa? Una VPN nel 2023? Ma che... Stiamo scherzando? È in realtà... Avere una VPN nel 2023... È una cosa piuttosto importante... Migliora la sicurezza della tua navigazione... Impedendo ai malintenzionati là fuori... Di appropriarsi dei tuoi dati... Ti dà la possibilità di accedere... A siti e contenuti... Non disponibili nel tuo paese... E poi... Protegge la tua privacy... Anche quando usi... Connessioni non protette... Insomma... Avere una VPN... È essenziale... Per navigare in tranquillità... Nel ventunesimo secolo... Ma allora... Perché NordVPN? Intanto perché... È l'unica VPN... Che aderisce alla politica di... No Log... Ovvero... Neanche la VPN... Ha accesso ai tuoi dati... Quando è attiva... Sulla tua navigazione... Perché ti dà accesso... A costo zero... Anche ai servizi... Threat Protection... Ovvero un anti-spyware... E anti-malware... Sempre attivi sul computer... E a NordPass... La cassaforte perfetta... Per le tue password... E poi... Perché NordVPN... È partner di Daily Cogito... Da ormai molto tempo... E io sono utente... NordVPN... Da molti anni... E non potrei più farne a meno... Grazie a Daily Cogito... E al link che trovi in descrizione... Avrai accesso a NordVPN... Con uno sconto esclusivo... E alcuni mesi gratis... In più... Inclusi in un prezzo... Imperdibile... Inoltre... Il servizio prevede un rimborso completo... In caso di disdetta... Entro 30 giorni... Non c'è nessun motivo... Per non provarlo... Grazie a NordVPN... E grazie a chi userà il nostro link... Per iniziare a usare questo fantastico servizio... E adesso torniamo... Alla trasmissione... Ringrazio NordVPN... Anche perché se restano i nostri sponsor... Dopo questa cogitata... Vuol dire che veramente ci tengono a noi... Ma adesso torniamo... Alla nostra chiacchierata... E vi ho proposto una domanda complicata... So che è una domanda difficile... Spero abbiate pensato... Non la ripeto perché tanto... Altrimenti il pubblico... Siano pelle balle... Quindi prego... Dai... Allora no... È qualcosa su cui ho messo moltissima riflessione... Io ho fatto proprio un percorso... Mettendo progressivamente... Sempre più persone... Nel personaggio... Questa è una cosa che ho iniziato a fare... È un processo che secondo me... Continuerà... Assolutamente... Non voglio dare un'idea di perfezione... Sono fisica... Ma quella la suggerisco anche mio malgrado... Dai... Ti voglio... Ti voglio bene... Ti voglio bene... Dai... Dai... Allora... Ho iniziato a raccontare di tutta una serie di mie difficoltà... Soprattutto in quello che è l'ambito che mi ha causato più sofferenza nella mia vita... Che è quello relazionale e sociale... Cioè io lo dico... A livello professionale... Sono sicuro di me... Questa sicurezza... Non si esprime nel fatto che io non penso che non fai errori... Perché li faccio sempre... Ma il fatto che saprò gestirli... Che tra ciò che faccio bene e faccio male... Ci sarà un bilanciamento positivo... Tale per cui sono sicuro quando mi approccio... Cosa che mi è sempre mancata... Proprio nell'aspetto sociale... Dove anzi... Ho sempre avuto difficoltà enormi... E ho iniziato proprio a raccontare questa cosa... E ho trovato un modo che secondo me è efficace... Anziché star lì a dare il nome tecnico di diagnosi che ho ricevuto... Spiego in concreto le mie difficoltà... Anche perché... Allora... Ora si utilizza tantissimo... Metto questo disclaimer... Non sto giudicando... Sto solo descrivendo un fenomeno sociologico... Nell'ambito dell'identitarismo... Qualificarsi sulla base di propri tratti identitari neutri... È una cosa che qualche anno fa non avremmo fatto... Ci saremmo definiti in base ai nostri interessi... I nostri hobby... E alla nostra formazione... Mentre adesso appunto si usa presentarsi... Cioè prendiamo le vie di Instagram... Con semplicemente caratteristiche neutre... Ascrivibili alla propria identità... È una cosa che io non faccio... Cioè se andate a leggere il mio avvio... Viene descritto effettivamente quello che faccio... Quindi oltre a non fare questa cosa... Inizio proprio a raccontare... Però in concreto... In concreto quali sono le mie difficoltà... Le sfide... Le piccole vittorie... E questa cosa credo che faccia veramente tanto... Ho scoperto... Un tempo io pensavo tipo di essere d'aiuto nel dire... Allora... Ho scoperto come utilizzare questa mia abilità... Guardate che risultati produce... Ora... Non è una cosa inutile da fare... Però il problema è che se una persona tanto non ha quell'abilità specifica... Dice ok grazie al cazzo... Mentre raccontare di mie specifiche difficoltà... In cui la gente si ritrova... Vedo che è veramente di grande aiuto... Ho persone che mi scrivono dicendo... Sai che non avevo mai sentito descritta così bene questa problematica... Posso usare le tue storie per spiegare come funzionano le persone che incontro... Certo non c'è mica il copyright... Assolutamente... È una domanda molto dolce... Però sì... Questa è... Quindi ho iniziato a fare questa cosa... È veramente importante questo... Tu Romina? Io invece devo dire che stranamente sono fortunata in questo momento qua... Perché ho passato una vita... Io sono l'unico penso essere al mondo... Che ha passato tutte le elementari medie e superiori con una maschera... E che quando sale sul palco attraverso le canzoni che mi scrivo da me... E invece lì è l'unica volta che io... Con la scusa della finzione che mostro veramente le mie meschinità... Capisci? E pure i tuoi pregi... Cioè mica solo le meschinità... No ma io non ho capito se sono una cojona e faccio orgire e divento un genio... Devo capirla questa cosa... Non è chiara... Però... Capisci? Perché chiunque mi direbbe... Ma sei pazza lì a dire la verità proprio lì... Eh no è finzione... Sai con me è una canzone... Che ne sai... Posso raccontare la storia della vicina di caso... E invece... Secondo me... Ecco... Poi faccio anche una serie di... Proprio perché io... Avendo un pubblico di nicchia... La cosa bella... Quando c'è un pubblico scelto... Che ti assomiglia in un certo senso... Non è che fai la pesca... Capito? Al trascico... Poi lì su quello ho costruito i centri d'ascolto... Perché il senso di solitudine interiore... E distraneamento rispetto alla moda X... O come ci si presenta è... Mi ha portato poi a dire... Mi sono sentita una stranza sola per tutta la vita... Quanto meno cerco di ridare indietro... Un po' di compagnia... Un po' di carezze simboliche... Quindi io... È l'unica volta che non mi sento manchevole... Cioè riguardo questa questione... Ti capisco... Il resto sono macello... Sì sì sì... Ma anche perché poi... Dall'altra parte credo... Non so se la vedete allo stesso modo... Però alla fine uno dei valori... Da artisti dell'arte... È quello che nel tuo lavoro... Ci metti le parti migliori di te... Cioè nel senso... Anche lì... Il dibattito su... Non so... Gauguin... Gauguin... Gauguin era un po' razzista... Un po'... Oppure Sheila... Qui piacevano... Ragazzette molto molto giovini... E sono tutte cose che evidentemente sono deplorevoli... Sono cose che in realtà devi condannare... Ma questo... Io quando vedo le loro opere... Io trovo la parte migliore di esseri umani imperfetti... Cioè trovo che... Sapete anche lì... Ho fatto anche un esempio qualche tempo fa... Avete presente i Noir Desir... Il gruppo francese... Io adoro i Noir Desir... Quella ha fatto una carneficina... Quella ha fatto una carneficina... Che è un vero figlio di puttana... Un vero vero pezzo di merda... Che ha fatto galera... Adesso non so se è uscito... Se non sbaglio è uscito in questi ultimi anni... Vabbè... Non voglio dire... Ho un sacco di persone che mi dicono... Eh no... Io non ho ascolto più i Noir Desir da quel momento... E io dico... Fermo lì... Lui è un pezzo di merda... Lo è ancora... Non lo so... Magari ha pagato il suo debito con la giustizia... È un essere umano... Imperfetto... Molto imperfetto... Più imperfetto di me... Spero... Ma la sua arte... Non è forse il... Il distillato... Delle parti che lo elevano... Dalla sua condizione di pezzo di merda... E allora perché io dovrei privarmi... Di quel distillato... Perché riconosco il fatto che è un pezzo di merda... Come tantissimi altri esseri umani... Perché sminuire... E trascinare l'arte... A livello dei peggiori difetti... Quando invece l'arte è proprio il tentativo... Da parte di esseri umani imperfetti... Di sublimare... Di elevarsi... Selin... Selin era... Antisemita... Come piace... Filofascista... No, no, no... No questa cosa... Quanto mi piace... Antisemita... Antisemita... Quanto mi piace... No, allora... No, ve prego... Il tempismo perfetto di Romina Falconi... Eh, vedi... Sì, sì... Eh, vedi... Hai detto prima... Il tempismo di Giorgia Palmas... Esattamente... È quello lì... Mi dispiace... Io volevo dire le opere... No, ma certo... No, hai visto... Cioè... Che gli manca... I piedi gonfi... C'era tutte... Era pure schizofrenico... Bipola... Comunque aveva anche lui una malattia mentale... È diagnosticata ovviamente postuma però... E cazzo però... Morda credito è una delle cose più incredibili che abbiamo letto nella mia vita... E cos'è che vuol dire questo? Questo vuol dire che in realtà... L'artista... Non è mai la perfezione... Perché l'artista è un essere umano... Ed ha difetti... Ha nefandezze... Sensi di colpa... L'arte... È ciò che ci permette di ricordare... Da un lato ci ricorda la nostra stessa imperfezione... Dall'altro ci fa dire... Posso attendere qualcosa di più... E io ho questo momento storico in cui... Perché J.K. Rowling... Eh boh... Stronza... E via dicendo... Io devo prendere Harry Potter e dire... No! Harry Potter non lo leggiamo! Ma vaffanculo! Ma leggete l'Harry Potter alla faccia di J.K. Rowling! E poi certo uno può dire... Eh ma ci guadagna soldi... Vabbè ma prima o poi lei morirà... Harry Potter no cazzo! Quindi... Perché io dovrei prendere e abbassare l'arte ai nostri livelli più bassi... Quando invece dovremmo fruirne... In virtù del fatto che ci eleva... Non so io... Cioè questa cosa qua di quest'epoca non riesco a digerire... Ma poi mettiamo pure che uno abbia sbagliato tutto nella vita... Una cosa ha fatto buona almeno riconosce moglie quella... Io questo dico poi fondamentalmente... Ha fatto anche cose buone... No certo... Scusatemi... La voce Duce l'amo troppo scusatemi... Comunque sono profondamente d'accordo... Poi mi sembra quasi una falsa dicotomia... Il dover scegliere tra l'opera o l'artista... Possiamo dire entrambe le cose... Possiamo dire che questa persona è stronza... Cade l'idea di merda... E riconoscere il valore dell'opera... E l'importanza per l'umanità... Certo... Non mi sembra che si debba scegliere tra le due cose... Poi è chiaro che... Voglio dire... C'è la libertà personale... Perché se una persona non vuole comprare qualcosa... Ma c'è ma che lei... Non la vuole comprare... E anche una forma di sensibilità... Per cui dopo che una persona fa una certa affermazione... C'è chi dice... Io non riesco più a fruire quest'opera... Perché ripenso quell'affermazione... Ma appunto se sia nell'ambito della sensibilità personale... Siccome non si può sindiacare... Invece no... C'è chi proprio predica... Che sia necessario quindi smettere di fruire di quell'opera... In virtù dell'azione... Commessa anch'io un problema di questa cosa... Non è una forma di moralismo però... E ciao... Un gravato eufemismo questa Romina... No... Intendo che... C'è come se un giorno qualcuno scopre le tendenze di Manuel Casto con il fuoco... E dice... Basta... Basta non ascoltiamo più i dischi di Manuel... È un moralismo all'ennesima potenza... Sono d'accordo... E lì... No... Allora l'interpretazione positiva è come abbiamo detto quella della politicizzazione... Quindi si chiede che ogni singola scelta... Anche che opera io vado ad ascoltare e a leggere... Abbia valore politico... Però abbiamo già parlato di quanto questo sia reduttivo... Questa è l'interpretazione che viene data da chi compie quest'azione... Che ovviamente non pensa di compierla pensando di scegliere il male per intenderci... In concreto poi c'è sotto tantissimo... Tra cui moralismo e poi lo sappiamo... Tantissime azioni non vengono fatte per la conseguenza dell'azione... Ma per essere visti mentre si compie l'azione... Sono cose che infatti non vengono fatte in privato... Virtuous signaling... Sì è quel fenomeno lì... Che palle... Una cosa che mi fa moltissimo ridere ad esempio... Ora è tangenziale... Sono le scuse di posizionamento... Cioè... Cosa è cosa... Io questa roba... Cioè... Cosa? È un termine mio... È una cosa che ho iniziato a... No forse tipo il contribute... Ho detto... Non lo conosco... Aspetta che guardo... No no no... È un fenomeno a cui ho dato un nome mio... E forse perché sono io... L'unico che l'ha notato... Ma a me dà grandissimo piacere... Quando una persona si scusa per una cosa che in realtà è una troiata... Per posizionarsi inizia... Allora... Sono qui perché devo assumermi una responsabilità... Ho commesso un gesto estremamente grave... E quindi per dimostrarmi all'altezza dei messaggi che io stesso predico... Sono qui a scusarmi con tutto... Tutto un papiro e poi era una troiata... Perché era semplicemente riassumere... Ah ne approfitto per dire che lì è stato commesso un errore... Grazie per la comprensione... Cioè quelle scuse lì hanno la funzione di posizionarsi come moralmente... Per me sono di grandissimo intrattenimento comico... È tutto esibizionismo però eh... È tutto un voler dimostrare al mondo che sia degni di avere più follower... Più consensi... E così è un po' legato a quello che diciamo prima... Cioè nel senso è il tentativo di sentirsi superiori ai nostri difetti... È questo... Allora il tentativo di sentirsi superiori lo capiamo... Non credo che l'essere umano si emanciperà mai del tutto da questa cosa... È in virtù di cosa... È questo che un pochino mi disturba... Allora... Io ho il mio mindset... Come ogni persona... E parte della mia crescita è stata... Rappresentata dal comprendere appunto che esistono altri mindset... E quindi smettere di giudicare le altre persone sulla base di cose su cui loro non si giudicano... Certo... Io ad esempio... Cioè questa è proprio una cosa che posso dire serenamente... Io ad esempio mi giudico sulla base delle mie abilità... Quindi giudicavo le persone sulla base di questo principio... Le persone con questo mindset che non hanno capito che è totalmente relativo... Sono quelle che poi dividono le persone in vincenti e perdenti... Sulla base dei risultati... Invece magari una persona non interessa affatto semplicemente eccellere in quel campo... Oppure non c'è riuscita per mille ragioni... All'estremo opposto... Dello spettro appunto in cui io mi sono collocato soprattutto prima di una consapevolezza... C'è invece chi definisce se stesso... Non sulla base dell'abilità... Ma sulla base dell'aderenza ai propri principi morali... Che sono cose positive... Sia avere abilità sia avere dei principi morali... Però quello diventa il primario criterio di definizione... E anche gli altri vengono valutati in base a quello... Queste... Se le altre persone commettono un errore di valutazione tutto buttato a valle... Per cui sei un vincente e perdente... Che già fa schifo come divisione... Sulla base dei risultati... Queste persone la divisione la fanno a monte... Sulle emozioni che uno prova... Sei buono o cattivo in base a ciò che ti fa ridere... Sì 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 è vero... Questo... Quindi il tentativo di posizionarsi... Come superiore è qualcosa che secondo me l'essere umano tende a fare... Poi magari ci si impara a gestirlo con la crescita... Però è una tendenza che abbiamo... Ma in virtù della superiorità morale è particolarmente problematico... Perché poi ti porta molto banalmente a raccontare palle... Perché io non posso credere che una persona ovviamente sia sempre buona... Quindi può solamente dire cose che la confermano come buona... Cioè vi ricordate il momento quando esplosa la guerra in Ucraina... In cui la gente si sentiva in colpa per fare il proprio lavoro... Non riesco a fare video... Che stronzo... Non ce la faccio... Non posso fare video... Manuel ti prego... Compatiscimi che non sono sotto le bombe... Guarda io guardo la mia videocamera... La mia videocamera mi guarda... Ma non vuole filmarmi... Eh vabbè ragazzi lì... Lì mamma mia che... Però capito che stucchevolezza... Il punto è proprio questo... Allora sono molto contento che ora si parli di performatività tossica... Benissimo... Però ecco... La necessità di apparire come abili e vincenti a tutti i costi... E tossi come quella di dover apparire buoni a tutti i costi... Sì... Ma poi io... Alle persone che mi si presentano e che ci tengono tantissimo... E te ne accorgi eh... Ce ne accorgiamo tutti di quello che ci tiene proprio a fare il buono... A me fanno una paura... Sono quelli che poi sbroccano e fanno cascare la vecchia... Cioè sei quelle robe che mi fa ride... Perché a me la vecchia... A me mi dispiace... Chiedo scusa... A me la vecchia che casca mi fa ride... Io prima a riguardo ai tuoi crimini giovanili ti avevo chiesto se avevi picchiato vecchiette... Guarda che questo... Questo ritorno... Questo ritorno... Purtroppo no... Non è... No... Non è quello... No... Purtroppo perché... No... Sto scherzando... Sono tutti lapsus che denotano una verità assoluta... Romina Faiconi picchiava vecchiette... No... Assolutamente... No... No... Guarda... La pongo io Romina in termine che non mi ha mai mai inteso... Diciamo che le sue azioni si esprimevano nell'ambito del trasferimento... Della proprietà senza necessariamente passare da una forma di consenso... No... Tutto lì... No... La proprietà della vita di una vecchietta... No... No... Sto scherzando... Sto scherzando... Sto scherzando... Sto scherzando... Sto scherzando... Ci piace perdere il controllo... Ma posso dire una cosa che ci sta... Questo buonismo... Scusate eh... Questo mostrarsi sempre superiori a livello di moralità... Di bontà... Io prima stavo dicendo... Sto facendo questo album di ombre... E in una canzone in particolare mi sono avvalsa dei miei amici esperti... Una psicologa e uno psichiatra... Perché una canzone parla di una roba che io ogni tanto regolarmente ho... E poi in questo caso il disturbo ossessivo-compulsivo... C'è una spruzzatina eh... Niente di che... Come si chiama sta spruzzatina? Cam? Com'era? No! No! Un cam tribute! No! Non mandare queste spruzzate in giro! Un cam tribute di ossessioni e compulsivi! Scusa... Ok... Non va bene sta puntata... Cioè secondo me è da rivedere... Questa puntata è elevata... Non può rimanere... Non può rimanere... Rimarrà, rimarrà... Però prego, prego, prego... Allora io parlo di questa canzone qua... E racconto una cosa che però a volte le ossessioni sono pensieri involontari e ripetuti... Io vado da questi miei amici... E pensa... E mi avvalgo del loro aiuto... Perché ti ho scritto sta canzone... Parla di una cosa che io conosco molto bene... Però ho paura... In tre minuti di te canzoni... Sembra quella che ti vuole insegnare la vita sul disturbo ossessivo... Certo... In sostanza... E uno di loro si è preoccupato dicendomi... Eh però guarda che questo è un disturbo che a livello serio può essere veramente debilitante... Cosa che io so perché mi sono ammazzata dai libri di psicologia ma è per cultura personale... Però poi a un certo punto... Tu pensa a quanto ci condiziona... Il fatto di essere sempre intoccabile e di non sbagliare manco una virgola... Io sto a parlare della mia vita... È normale che il disturbo mio magari non può essere debilitante come il tuo, no? Che male c'è a scrivere... Faccio un esempio, no? A parlare di una canzone che nomina le ossessioni e le compulsioni normali che ognuno di noi ha il suo spettro, no? C'ha la sua... Eppure vedi quanto mi condiziona e quanto io ho paura quando tocco degli argomenti privati anche personali di passare come la stronza che sta facendo di tutta un erbo a un fascio rispetto a quello che sarà sicuramente più buono di me che ci terrà invece a precisare che quella cosa invece è in quell'altro modo... Cioè io non sto a vivere più... Cioè dopo un po', no? Nel senso... Quando fai un lavoro legato all'intrattenimento devi farti il triplo delle domande magari di dieci anni fa... E sta cosa non è sana, raga, secondo me, scusate, eh? No, ma sono d'accordo, sono d'accordo però è dovuto al fatto che... Perché prima dicevate... Manuel diceva questa cosa... Cioè dipende anche in relazione a cosa la fai... Quando poi ti rendi conto che tutto questo comportamento, tutta questa superiorità morale, intellettuale, fasulla viene usata per acquisire popolarità... Cioè ragazzi, provate a pensarci un secondo... Quant'è, mi viene da dire, psicotico, collettivamente? Creare della menzogna un metodo, un metodo comunicativo, sempre e comunque, mentire, mostrarsi, pomparsi, nascondersi... Alla fine dei conti, non per diventare presidente negli Stati Uniti, non per diventare ricosfondato e via dicendo che vabbè, dici, vabbè, magari sono prospettive... No, per avere maggiore popolarità. E la popolarità... Adesso qui voglio lanciarvi questa cosa che secondo me è interessante, anche qui è una cosa su cui sto ragionando e che chiedo a tanti miei ospiti perché non ho una risposta a riguardo. Quanto è una merda la popolarità? Quando diventa un criterio morale? Siamo popolari e quindi siamo migliori. La popolarità è diventato uno status morale e tu sei migliore perché tanta gente ti segue. Sei un modello, un esempio, non in base a quello che fai, che dici, alle idee che esprimi, ma in base al numero di persone che sono convinte di seguirti sui social e via dicendo. Questa roba qua per me è molto problematica. Sai che non sto capendo bene cosa intendi? Popolarità, ok. No, questo sto seguendo, ma secondo te c'è un principio per cui il numero di follower viene correlato alla caratura morale? Sì, un po' sì. Cioè, nel senso, tu giudichi una persona migliore... Allora, partiamo da distante. Una persona migliore è un modello, ok? Noi oggi abbiamo dei modelli che non sono più legati al talento interpretativo nei film, ma in base al numero di persone che seguono questi individui. Cioè, la rilevanza segue questo criterio. In che senso la rilevanza? Una persona è rilevante quanto è seguita e non quanto è efficace in quello che fa. E però se diventa un modello. Se io... Forse non sto capendo presenta di modello. Ah, ok. Qualcosa voglio diventare, però. Qualcosa che voglio diventare, esatto. Ok, esatto. E quindi, in questo senso, la popolarità diventa un criterio morale, ok? Qualcosa su cui basare il mio agire futuro. Ok, ora sto capendo. Quindi, ecco, questo per me è molto problematico, perché tu giochi a questa partita di moralismi, di superiorità intellettuale, non per acquisire veramente qualcosa che dici, ok, concretamente, ma no, per acquisire popolarità che poi è effimera e poi ti si ritorce pure contro in tanti casi. Quindi, e questo per me è una cosa su cui veramente... Cioè, mi rendo conto che ci sono tante anche persone molto giovani che sono abituate a pensare che popolarità uguale migliore. Io ho conosciuto tantissimi influencer con molte popolarità di me, ma anche di voi, che sono sempre depressi, sempre distrutti. E in parte la loro depressione e tristezza è alimentata dal fatto che sono popolari. Questa roba qua è devastante, secondo me. Ma sì, perché è come un bicchiere di alcol concentratissimo. Non so come dire, esaspera tutto. Quindi, se tu nella vita sei un insicuro, la popolarità ti permetterà di essere ancora più insicuro, perché dovrei essere più performante e mantenere quella serietà lì e quella potenza vinta pure, no? Ci sono persone che non sono adatte a essere popolari, ma non è mica perché sono migliori o peggiori, ma perché non hai un carattere adeguato a quella roba lì. Perché appena ti arriva una critica da tre persone... E ti smonti. Ti smonta completamente. E mi rendo conto che non stiamo facendo un discorso serio, lì sì, politico e pubblico, sul fatto che la popolarità è una caratteristica che alcuni individui possono sopportare e gestire bene, altri invece no. Questo è terrificante, secondo me. Io di per sé la definisco una risorsa. Nel senso che è una cosa che puoi utilizzare per perseguire i tuoi obiettivi. Però capisco che abbia assunto invece tutt'altra serie di effetti e di significati, tutt'altro che interinseci. Com'è che la vivete voi, la vostra popolarità? Beh, io comunque me la sono sottata tanto e poi non è così. Cioè, ce l'ho in una cerchia ristretta, ecco, diciamo. Quindi io tutto sommato me la vivo bene, anzi vedo un sacco di gente che improvvisamente arriva a tutti, ma per tutti intendo tutti. Gente che sai che con una canzone magari a volte si fanno un'idea di te, che sei in un modo e in realtà poi sei in un altro. Ognuno si fa, ha le sue aspettative. E quindi io preferisco un po' piano, 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 e poi arrivare a quello che mi merito, non so come dire. Ci stanno persone che dicono, ah, io da domani vorrei avere orde di fan dietro. Però sì, si dipende sempre come la vivi. Vuoi piacere veramente a tutti? Perché io vedo personaggi famosi sbagliare una virgola e li massacrano poi dopo. Preferisco essere, cioè, piacere a quelli che ti hanno capito e che anche se dici la cosa fuori posto. Ecco, capito, questo è importantissimo. Quelli che ti hanno capito. Cioè, e voi ovviamente sul palco e nella vita usate anche tanta satira. Quindi lo sapete benissimo quanto è importante dare il contesto. Capire perché uno arriva a pubblicare dick pic, ok? Che non è semplicemente una canzone che dice ah, buttate il cazzo in chat. Non è quello il senso. Il senso è molto più profondo. Uno che abbia seguito il percorso di Manuel bene o male sa dare contesto. Uno che ascolta solo quella canzone può dire ma come? Questo sta suggerendo una cosa molto immorale. E quindi, però, più sei popolare, più sei esposto più è difficile a farti capire. È così. Poi c'è stato fra l'altro un enorme cambio proprio nel paradigma stesso della popolarità a cui abbiamo assistito probabilmente negli ultimi 15 anni. Siamo passati da una popolarità, diciamo, verticale e orizzontale. Prima del media one to one, cioè internet sostanzialmente in cui scegliamo noi che contenuti offrire c'erano i palinsesti. Si creava una situazione in cui o ti conoscevano tutti o non ti conosceva nessuno. Berlusconi diceva all'epoca, provocatoriamente, ma all'epoca aveva un suo senso, diceva se non è in televisione non esiste. All'epoca funzionava molto così. Adesso invece c'è stata una frammentazione del concetto di popolarità sulla base di tantissimi fattori anagrafici, di interessi, di piattaforme. Questa cosa è curiosissima. Di persone che sono star assolute su Instagram, sconosciute su Facebook, famosissime su Twitch, ma non su YouTube. Questa cosa è veramente molto particolare. E costantemente io entro in contatto con persone che hanno un seguito enorme che non ho mai sentito menzionare. E sono certo che succede la stessa cosa con me. Di conseguenza il tipo di popolarità che ho io è appunto quello. Vale dire, è settorializzato. Cioè ci sono interi gruppi demografici che non mi hanno mai sentito menzionare. Detto questo, la mia non so come dire, dove è presente è abbastanza pervasiva. Anche solo venendo qua oggi. Quindi sono uscito di casa, ho preso il treno, mi avevano fermato tipo tre persone. E questo risponde un po' alla domanda come la vivo, pro e contro. Allora, da un lato è inevitabilmente bello ricevere dei feedback positivi. Poi io non so dire come siano i feedback positivi che ricevono le altre persone. Quelli che ricevo io mi sembrano veramente tanto sentiti. Cioè, proprio mi sembra di toccare una dimostrazione di stima profondissima alla quale non mi sono mai assuefatto. Cioè, veramente, sta ognuno di noi a dirsi che quello che facciamo ha valore e se ti ferma gente a caso per strada per dirtelo è meglio. Certo. C'è il lato opposto, però, che io sono molto riservato e il fatto appunto che io do su un personaggio. Quindi, al contrario, che io venga, non lo so, fotografato mentre sono nel reparto dei legumi che sto adondolando perché sono sovrapensiero, non mi fa piacere. Ma quello penso tutti, però. No. È molto bella l'immagine. però è l'immagine che fa pari al surf sulla merda. Cioè, nel senso, è bello. È una bellissima vendita. Sui legumi. Prego, prego, scusami. Cioè, tu che dondoli sui legumi non faremo ulteriori domande. Mi chiedo però, riguardo al fatto dell'aver paura di dire qualcosa e di sbagliare, che è una paura che ovviamente sento tantissimo anch'io. Mi chiedo chi ne sei uno e c'è chi l'affronta di più come credo che faccia tu, c'è chi non l'affronta affatto, però in qualche misura ovviamente l'abbiamo. Poi io sono molto diplomatico e amo proprio le sfide comunicative. A me piace dire c'è questa roba che non ho visto nessuno riuscire a dire senza pestare una merda. Io ci riuscirò. Cioè, quella cosa lì ovviamente a me tira tantissimo come sfida. Detto questo, sì, ovviamente ho paura delle conseguenze e questo è davvero un peccato perché sta portando davvero le persone a colpevolizzarsi per il fatto di avere emozioni negative. Quando, molto banalmente, allora, se io dovessimo scrivere un libro che posso definire, non lo so come dire, su come smettere di essere stronzi, cioè il concetto di base sarebbe se tu ti comporti come una persona decente sei una persona decente. Poi puoi continuare anche a essere uno stronzo nei pensieri o nelle tue emozioni. Non è affatto scontata questa cosa. Credo che il fatto di aver paura di dire e di sbagliare sia legato al fatto che comunque questa popolarità adesso è più facile da acquisire rispetto a 70 anni fa. Per quello che dicevo prima, prima era molto verticale, adesso orizzontale, quindi adesso la persona che ammiri è veramente il tuo vicino di casa, ok? A me capita, io rimango basito quando ricevo qualche giorno fa ho ricevuto un messaggio di una mia ex compagna delle elementari che mi ha scritto un messaggio su LinkedIn dicendomi che mi segue e io ho proprio pensato Madonna Santa, Madonna Santa, questa persona segue il mio lavoro, è una persona che è conosciuta nella mia vita, che era nel paesino dove abitavo e che non vedo da 20 anni ed è incredibile questa cosa qua, perché? Perché ti fa capire quanto in realtà quando c'era Jarry Cala, Jarry Cala, era l'inarrivabile Jarry Cala, ho fatto l'esempio, non è il primo esempio che mi è venuto in mente, però era l'attore che aveva un certo tipo di conoscenze, che faceva parte di un jet set molto distante, adesso invece, cazzo, sono io quello popolare, sei tu, e siamo molto più vicini al nostro pubblico e questo cosa comporta? Comporta il fatto che è molto più facile perderla quella roba lì e quindi i criteri per, se Jarry Cala ave si è fatto una battuta razzista negli anni 70, titolone sul giornale via dicendo però poi bene o male avrebbe continuato il suo lavoro e via dicendo perché? Perché erano pochi e molto ben protetti perché i criteri di popolarità erano molto difficili da acquisire e quindi erano anche molto difficili da perdere, adesso succede il contrario, adesso è facile, ti fai un canale YouTube e hai un minimo di dialettica o un paio di idee buone, diventi popolare appena pesti una merda non te la si scusa perché quelli che ti seguono sono anche tuoi possibili concorrenti. Dei trattori, sì, sì, sì. Occidenti. E questo credo che sia una cosa che un po' sta alla base dell'incattivimento del dibattito pubblico. La cattività nei confronti di Chiara Ferragni. Ora io non ho particolari opinioni, credo che abbia costruito un'azienda che funziona, che sia un'imprenditrice con delle idee, però non è che abbia grandi idee. Però le cattivere che ho letto su Chiara Ferragni, secondo me, sono legate al fatto che parte del suo pubblico percepisce il fatto che io avrei potuto essere Chiara Ferragni. Lo dicevo anch'io. Io ho persone che fanno filosofia e che mi odiano non per quello che dico, per quello che sono, ma perché avrebbero potuto essere al posto mio. Questa cosa non succedeva con Umberto Smaila. No, però Umberto Smaila non c'è, cioè, ormai ti faceva la canzone, scusami se mi permetto, però era quello che trovavi al piano bar. Sì. Cioè piatela pure con quello che ti canta senza fine. Ma non è solo quello, è il fatto che sei in televisione. Sì, no, però intendo che quando sei più settoriale è più facile che ti odino anche di più paradossalmente, nel senso che sicuramente al bagaglino la casalinga di Voghera criticava... Parli diciamo di assenza di contenuti in quel caso, che non ci si esponeva? No, dico che c'era meno scelta e quindi lo spettacolo era quello, ti doveva piacere, non so come dire, anche se potevi... Ah, ho capito cosa la scelta poteva essere anche spegnere il televisore, avevi il potere di farlo. Adesso, col fatto che siamo bombardati, io ti scelgo, ma mi piace anche disprezzarti pubblicamente, perché hanno sdoganato sta cosa che il pubblico deve parlare, che è giusto che parli. No, no, ma scusate, voi non è... Cattiveria. Dillo con cattiveria. Ciao, oh mio Dio, oh mio Dio, no, ho sbagliato, ho sbagliato. No, volevo dire... No, c'è la voce, è giusto, esatto, esatto, c'è la voce. Perché tu hai la voce... Vieni, è orribile. Sì, è tutto orribile, volevo solo un ricad. No, il pubblico si può esporre optando per la scelta di acquisto di un biglietto, di una cosa, però aspettarsi, cioè se qualcuno si ha da ridire su quello che dice, non è perché magari hai raccontato male la vita, te ne dice, allora lì ci può stare, io ti faccio una critica dicendo, guarda, la prossima volta, però ricordati meglio le date, non lo so. certo, ma se tu tra le mie parole di critica e percepisci che in realtà è più una questione di invidia del fatto che mi sento pari a te, allora fallo te, però allora in questo momento sei spettatore, fai lo spettatore e poi mettete in gioco tu, capito che intendo, non è che sto dicendo che il pubblico non deve parlare, dico che... sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, ma viviamo anche un'epoca in cui quel confine fra il creatore di contenuti e il suo pubblico si è sottigliato enormemente, psicologicamente questa cosa ha un impatto, psicologicamente ha un impatto tu il fatto di sentirti più vicino, il fatto che le persone che ammiri peggio, il tuo idolo sia potenzialmente il tuo vicino di casa è una cosa da un lato bellissima e dall'altra è devastante. È devastante? Sono d'accordo al 100%, ne avevamo parlato anche in un altro podcast di cui siamo stati ospiti. Ma qui l'avete detto meglio, sono sicuro. Non l'abbiamo ancora detto. Ma lo direte meglio? Sì, lo diremo meglio, lo diremo sicuramente molto meglio. Allora, ad esempio, per quanto riguarda il tema molto dibattuto del body shaming abbiamo fatto questa riflessione veramente molto molto utile. Allora, la celebrità all'epoca era proprio vista come un fenomeno proprio distaccato dalla quotidianità. Per cui, usando un termine giustamente un po' decaduto, i VIP erano un'altra razza, erano un'altra classe con tutti i problemi che ciò che comportava ma con il vantaggio che tu non ti paragonavi. Io, quando mi facevo le seghe su Tutto Magazine, come si chiamava quello musicale? Sì, Tutto musica. Tutto musica, non mi ricordo. Comunque, perché c'erano le foto dei Backstreet Boys senza la maglietta. Ok. Ok. Io guardavo i loro corpi. Non più Valeria Marini, quindi. No, esattamente. Da quando ho iniziato la segare ne avevo capito cosa mi piaceva. E io non mi sentivo in difetto, io ero magrissimo rispetto ai loro corpi. Io non mi paragonavo ai corpi delle celebrità. Cioè, li vedevo proprio come un'altra specie umana, ripeto, con tutte le criticità di quello che ho appena affermato. Io mi paragonavo ai miei compagni di classe che non avevano quel fisico lì. Mentre adesso sì, ti paragoni all'Instagram che ha quel fisico lì e dici come mai io non sono così sebbene lì ci sia comunque tutta la dimensione di finzione che tu, soprattutto se non hai gli strumenti, non percepisci. Sono molto... Ecco, questo è un punto che in realtà adesso lasceremo un po' a lettere e al ragionamento del pubblico perché sennò andiamo avanti per quattro ore e io andrei avanti per quattro ore ma ci sono le domande l'educazione vedi qual è un punto essenziale secondo me è che quando tu hai un'intera società che mente tu devi educativamente rafforzare la capacità di riconoscere le menzogne non devi dire sempre guarda che tutti mentono perché non serve a un cazzo tu dovresti educare le persone a mostrare tecnicamente come funzionano le menzogne sia discorsivamente tutto lì c'è il discorso delle fake news e via dicendo noi oggi siamo dei boccaloni culturalmente perché abbiamo smesso di fornire gli strumenti concreti per cercare le fonti confrontarle scavare più a fondo e via dicendo e invece ci affidiamo ai debunker che fanno un lavoro assolutamente importante ma servono solo fino a un certo punto perché non serve a nulla dire ricordati che la gente mente grazie al cazzo mento anch'io ogni giorno lo so da un punto di vista dell'esperienza social questo si traduce nel fatto che oggi un tredicenne sa perché lo dicono tutti che è tutto finto ma non ha gli strumenti per individuare dove stanno le finzioni e quella roba lì ci sta facendo molto molto male ed è una cosa che mi preoccupa un po' anche perché è una questione molto molto difficile da indirizzare e non lo si sta facendo non ho assolutamente la soluzione sul piatto però sì sì allora ci sono in realtà proprio delle nozioni di psicologia che sono assolutamente alla portata di uno studente delle scuole medie ma non vengono date e tutto ciò che concerne proprio il fact checking il pensiero critico il pensiero logico sono cose che si possono attivamente coltivare mentre non solo non vedo proposte in tal senso ma vedo proprio una resa alla stupidità umana non è nefremismo no no ma ci arrendiamo cioè del tipo che c'è la richiesta seria non lo so di scrivere all'inizio di un libro scritto nell'ottocento attenzione si avvisa che questo libro è stato scritto con la metà dell'Italia dell'ottocento ma davvero cioè dobbiamo scrivere questa cosa io alzerai la posta nell'educazione invece noi dobbiamo abbassarla abbassarla esatto esatto abbassiamo di nuovo il discorso di abbassare l'arte le nostre migliori espressioni ai livelli dei nostri difetti attuali che è terribile perché fa perdere fiducia anche secondo me in quello che possiamo fare ed è una cosa che mi preoccupa abbastanza perciò insomma io credo che lavori come i vostri voi io credo che la satira abbia abbia un po' questo poi voi non fate solo satira però l'elemento della satira io ho sempre grande stima perché ha un elemento di fiducia nel pubblico che altri linguaggi non hanno bello bellissimo io mi fido del fatto che tu capirai il contesto quello ragazzi è fondamentale c'è bisogno di un po' più di fiducia vi racconto questo aneddoto in chiusura perché l'abbiamo trattato su feed qualche giorno fa nel 2018 intanto per capire quanto in là è andata l'incapacità di riconoscere le menzogne in non mi ricordo era in Gabon se non sbaglio il presidente del Gabon non si mostrava in televisione da mesi da settimane e tutti cominciavano a dire che forse il presidente era morto te lo ricordi era morto il presidente non c'era più il presidente alla fine il presidente si è mostrato e ovviamente c'era grande trambusto politico perché tutti dicevano forse dobbiamo andare alle elezioni alla fine il presidente si è mostrato un po' a letto e tutti dice il suo portavoce diceva che sì il presidente era stato ammalato ma in realtà stava abbastanza bene lui ha parlato e tutti quanti da lì hanno cominciato a dire forse è un deepfake è un deepfake è un deepfake e quindi è un'immagine artefatta al punto che l'esercito il deepfake è presente sono immagini video artefatte ma che risultano particolarmente credibili molto credibili ok sì sì scusate i militari hanno tentato il colpo di stato convincendosi lo sai quello lui l'esercito ha tentato il colpo di stato sono arrivati tanto così dal colpo di stato perché si sono convinti i vertici militari del fatto che era un deepfake siamo arrivati al punto di avere delle tecnologie non solo perché qua il problema non è tecnologico le tecnologie vanno avanti non potremmo farci nulla il problema è che abbiamo smesso di credere nel fatto che esista una realtà oltre le tecnologie cioè partiamo dal presupposto che ciò che vediamo ci inganna con questo psicologicamente arriviamo al punto inevitabile di non riuscire più a discernere le verità le menzogne la finzione dalla spontaneità non ce la facciamo più perché se tutto quanto a priori è matrix allora significa che non potremmo farci nulla quella sfiducia lì secondo me è molto molto forte ma vedi come siamo pronti più alle bugie come più cioè stiamo aspettando di scovare la verità stiamo diventando narcisisti e paranoidi raga non va bene eh lo so eh sì però è vero è una paranoia è una paranoia di massa sono molto d'accordo eh sì tanto io ti sgammerò tanto io ho capito dove vuoi arrivare Rick Duferre tanto io ho capito dovete fare una canzone io ti sgammerò io voglio io voglio io voglio la canzone sui deepfake io ti sgammerò ti sgammerò come era? ce l'ho io ce l'ho ti sgammerò ti sgammerò la viola tu quando ritorni da scuola perché sei un deepfake qual è quella dello sboroni? no cos'è? lo sboroni aspetta com'era quella degli sboroni quelli che stai dicendo Romina basta fare la sboroni no scusate Immanuel basta fare la pirofila allora io ho questo problema grazie per questa meravigliosa live pirofilo adesso noi andiamo a leggere le domande del pubblico che sicuramente hanno scritto delle cose terribili in chat ma noi le leggeremo con coraggio e poi andiamo a cena ragazzi e continueremo e ci faremo cacciare dal ristorante ci state? ci state? ragazzi io vi ringrazio tanto perché è stato meraviglioso chiudo la trasmissione per chi è ascoltato Indifferita ovviamente andate a seguire il tour teatrale di Immanuel Romina trovate i link in descrizione per prenotare le date mi raccomando andate io andrò il 2 aprile a Verone non vedo l'ora di vedervi sarà fantastico grazie a tutti per aver seguito se siete in live non uscite che adesso leggiamo qualche domanda e siete bellissimi grazie grazie